L'ultimatum scadeva alla mezzanotte di domenica 6 agosto, ma i 5 milioni di euro attesi non sarebbero ancora arrivati nelle casse della FIMER. Il fondo Clementi, che ha avanzato un'offerta di acquisto per l'azienda di Terra Nuova Bracciolini, avrebbe infatti proposto un'immissione di liquidità come finanza di garanzia, confrontandosi quindi in maniera diretta con clienti e fornitori. La prossima data, cerchiata in rosso sul calendario, adesso è quella del 21 agosto, giorno in cui il Tribunale di Milano ha fissato l'udienza decisiva per la concessione del concordato. Entro quella data il fondo inglese dovrà versare 17 milioni, altre 95 a compimento dell'operazione. Sull'attuale crisi dell'azienda è intervenuto anche il coordinatore regionale e deputato di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi, che precisa che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sta seguendo con attenzione la vicenda, ma che non può intervenire in presenza di un procedimento del Tribunale. Strategiche saranno così le prossime settimane per capire come e dove sta andando l'avvertenza, aperta ormai da mesi. Nei prossimi giorni infine in programma un nuovo faccia a faccia tra sindacati e Clementi Group, dopo quello della scorsa settimana, nel quale il presidente del Consiglio di Vigilanza del gruppo inglese aveva assicurato di voler riportare la FIMER ai fasti passati. Intento che è chiarissimo già da una nuova e mezzo di rilevare la FIMER e di dare gli strumenti al senso largo, non solamente i soldi, ma anche tutti gli accessi a diversi mercati, per rilevare la FIMER, per rifare che la FIMER ridivenesse la Power One che tutti abbiamo conosciuto, e che è una grande hacienda che ha dei dipendenti associati a passi di schi.